Se ci sono regole che ti vanno strette, sicuramente non sei il solo a pensarlo. Sempre più persone hanno deciso di cambiarle, per avere una banca con più interessi, più servizi e meno spese. E adesso hanno un conto in fineco. Perché non cambi banca? Perché non cambiarle, per avere una banca con più interessi, più servizi e meno spese. Perché non cambiarle, per avere una banca con più interessi, più servizi e meno spese.